Buongiorno FTI Online, tentativo di rimbalzo questa mattina per la borsa, il Fuzzimib infatti in questo momento guadagna 0,5% circa, siamo intorno ai 22.290 punti, lo studio del grafico giornaliero però impone prudenza, infatti le oscillazioni degli ultimi due mesi hanno dato luogo ad un potenziale testa a spalle ribassista, una figura che se completata potrebbe determinare la fine dell'up trend che abbiamo visto nell'ultimo anno circa, la base della figura, la sua neckline è data da questa linea di tendenza che congiunge i minimi di ottobre con quelli di novembre, la linea attualmente transita intorno ai 21.890 punti, la parallela della linea di tendenza tracciata dal massimo di ottobre, praticamente viene testata dai massimi del 24 novembre, il fatto che questi due massimi siano sulla parallela alla neckline, quindi le due spalle siano sostanzialmente allineate, è un ulteriore elemento che rafforza la probabilità che la figura venga completata, come abbiamo detto solo a di sotto della base della testa a spalle, quindi solo con la violazione della neckline, a 21.880 punti ci sarebbe effettivamente un rischio concreto di termine della fase rialzista dell'ultimo anno, notiamo però che le linee di tendenza che è possibile tracciare dai minimi dello scorso novembre, via via sono state violate e l'indice ha sempre seguito poi un percorso dalla inclinazione meno decisa, l'ultima violazione è stata quella del 13 novembre, della linea passante tra i minimi di novembre del 2016 e i minimi di ottobre di quest'anno, la linea come vediamo ha funzionato molto bene come resistenza in occasione del rialzo del 24 novembre, quindi un return move che per il momento non si è spinto oltre la trend line, solo se dovessero risalire al di sopra di area 22.700 ci sarebbe un segnale che allontanerebbe le probabilità di realizzazione del testa a spalle facendo sperare in un nuovo test dei massimi del 7 novembre a 23.130 punti, quindi grande attenzione in questo momento sulla borsa perché i presupposti per un calo che potrebbe essere anche esteso, ci sono tutti in caso di completamento del testa a spalle, infatti il primo target è dato dalla proiezione della sua ampiezza dal punto di rottura, quindi si rischerebbe di arrivare almeno fino a 20.700 punti. Vediamo adesso ai titoli interessanti per la giornata di oggi, partiamo con Fineco Bank che è il rialzo di più dell'1%, siamo a 8,20 Euro, il massimo di ieri è stato toccato a 8,23 Euro che a sua volta aveva cercato di superare quello del 22 di novembre a 8,21 e mezzo, quindi siamo su una resistenza importante, vediamo cosa ci dice il nostro mega trader e sistema di analisi tecnica sviluppato in collaborazione con Trend Online, su Fineco Bank la posizione long dal 20 di novembre, il rating sul titolo è un rating a 5 stelle, quindi valutazione molto positiva, trend di breve, trend di medio e trend di lungo termine, tutti visti a rialzo il prossimo target per il titolo nel breve termine a 8,30 Euro, quindi il sistema ipotizza il superamento dei massimi di area 8,22 con il raggiungimento di 8,30 in tempi brevi, un'ipotesi che appare credibile, infatti se andiamo a guardare la struttura rialzista dell'ultimo anno, in questo caso a differenza di quello che abbiamo visto per l'indice è del tutto ancora in forze, la linea di tendenza che sostiene tutto il rialzo può essere utilizzata come base per il canale crescente che si può disegnare nel termine dello scorso novembre, il target al superamento di area 8,22 sarebbe il lato alto del canale, posizionato intorno agli 8,65 Euro, quindi prima resistenza a 8,30 Euro, successiva a 8,65 Euro, solo se dovessero ridiscendere al di sotto della base della fase laterale che i prezzi hanno disegnato nelle ultime sedute, quindi solo una violazione del minimo del 23 novembre a 8,02 Euro potrebbe fare temere una evoluzione negativa con movimenti almeno fino alla media mobile a 50 giorni che transita in questo momento intorno ai 7,65 Euro, quindi positivi, prudentemente attende la rottura di 8,22 Euro per entrare con target 8,30 Euro, 8,65 Euro, ma stop da posizionare subito al di sotto degli 8 Euro. Passiamo invece adesso a Campari, altro titolo che potenzialmente ha la possibilità di invertire la strada di ribasso che è intrapreso dai massimi del primo di novembre, un segnale positivo c'è già stato con la rottura della linea di tendenza che parte proprio dal massimo di inizio mese, la linea è stata superata nella giornata di venerdì con la rottura di area 6,44, ieri i prezzi hanno cercato di allungare oltre la linea di tendenza, si sono spinti fino a 6,54 e poi hanno chiuso a 6,45, questa mattina siamo a 6,50 e quindi al di sopra ancora una volta di questa trendline, a questo punto si può ipotizzare una correzione della ultima fase ribassista, in termini di rifiacciamenti di Fibonacci sarà importante vedere le quotazioni superare innanzitutto il massimo di ieri a 6,55 Euro, poi anche il gradino successivo nella scala di Fibonacci il 50% a 6,62, oltre quei livelli diventerebbe possibile il ritorno sui massimi del 1 novembre a 6,95 Euro, solo se dovessero ritornare al di sotto della media mobile a 50 giorni che ha fornito ieri la base per il rimbalzo, a 6,43 Euro ci sarebbe in quel caso il rischio di un ritorno nell'ambito della tendenza ribassista. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo buona giornata e vi diamo appuntamento domani con il consueto commento giornaliero.